Salve a tutti ragazzoni, benvenuti con il mio amico Angelo Abbiamo richiesto tutte le portate, questa sarà una challenge molto difficile Abbiamo preso molta roba Quanti pezzi riuscirò a mangiare? Iniziamo col video Kiyomi sushi giapponese Andateci Mi raccomando andateci se vi è gusto Ok, prima portata tartara di salmone E poi passeremo al sashimi A tra poco Un'altra parte Mi raccomando e si deve amare Anche pure Sono tampe Alessio Un'altra parte Anche Sì Questa la parte Una parte Il mese un cucchiaino che forse è bello cucchiaino o qualche? un cucchiaino, due seconda portata terzo terzo finito la pasta al carpaccio di salmone di questi qua conteremo ogni pezzo che mangio quindi siamo a 4 e 5 e poi la saldina mia ma che saldina mia è? non capito finisce passiamo all'altro altri pezzi carpaccio misto non ce la faccio a mangiare ce la faccio a prendere dopo ok finito ok sashimi iniziamo col sashimi ci vuole sempre la salsa di soia non ce la faccio a prendere dopo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti